E' arrivare i barbapapà, barbapapà, nella famiglia barbapapà, chiedi con noi dai barbapapà, tu li vedi trasformare come gli va, chiedi con noi dai barbapapà. Ci sono barbapapà, barbamamma, barbidù, barbuil, barbapella, barbatura, barbottina, barbapapà, Carlotta e Francesco sono in viaggio per l'India. Stanno cercando altri barbapapà, perché il nostro barbapapà è stufo di stare da solo, ha bisogno di compagnia. Oh no! Che cosa è successo? Ma perché si è fermato? C'è stato un incidente. Andiamo a vedere. Corriamo. Vediamo. Oh, il ponte è crollato. Oh bella. Ma come è possibile? E' vero. Resta di stucco. Guarda, barbapapà si sta trasformando. E' un barbatrucco. Come è forte, barbapapà. Siamo salvi. Urrà per barbapapà! Il viaggio verso l'India ora procede tranquillo. Eccoci arrivati finalmente. Com'è diversa l'India dal nostro paese. E diverse sono anche le persone che la abitano. Ecco un celebre fachiro. Posso farlo anch'io? Resta di stucco. E' un barbatrucco. Che buffo. Resta di stucco. E' un barbatrucco. Barbatrucco, barbatrucco, barbatrucco. Ascoltate questo suono meraviglioso. Avete capito di chi si tratta? E' l'incantatore di serpenti. Posso trasformarmi anch'io. Ecco fatto. Ragazzi, guardate me. Però, se la cava piuttosto bene, barbapapà. Bravo! Grazie! Grazie, bambini, grazie. Il serpente vero, però, ci è rimasto un po' male. Signor fachiro, lei che sa tutto, può dirci dove abitano i barbapapà? Se non sbaglio, c'è un solo uomo al mondo che sa dove si trovano i barbapapà. Ma non è qui, credo che abiti in America. In America, sì, mi pare. Andiamo, presto! Entra nella roulotte, barbapapà, e si va in America. Il fachiro ci ha detto che lì c'è una persona che sa sicuramente dove possiamo trovare altri barbapapà. In America? E va bene, perché no? Si parte per... Si parte per l'America! E va bene, perché no? Grazie a tutti.